Ovviamente devo ritornare sulla conferenza stampa che ha tenuto ieri il Premier Draghi. Come avevo previsto non è che abbia detto nulla di importante, tuttavia ha detto delle cose che veramente hanno dell'incredibile e che non posso esimermi dal commentare. Lascio perdere la storia di Speranza, il Ministro della Salute, che Draghi ha voluto precisare di averlo scelto lui proprio perché lo stima. Lo stima è uno dei pochi. Ovviamente non vado a ricordare cosa ne pensa Giacchetti di Speranza, quella è stata un'uscita storica che poi ha fatto nascere e istituire il premio Giacchetti. Speranza alle scorse elezioni si è presentato come capolista nella sua Basilicata, lui è nato a Potenza, ed è arrivato buon quarto, non solo nettamente battuto dai candidati del centrodestra e del centrosinistra, ma soprattutto umiliato dal candidato del Movimento 5 Stelle, tal Salvatore Cajata, a tutt'oggi ovviamente perfetto sconosciuto. Cajata ha preso più di 60.000 voti e Speranza si è fermato a 9.900 voti. 9.900 voti, capite? Ditemi voi, insomma, cari ascoltatori, se mi presento io alle elezioni prendo più di 9.900 voti, dai! Insomma. Comunque, quindi lo ritroviamo in Parlamento perché? Perché lo avevano anche inserito così all'interno di una lista nel collegio di Sesto Fiorentino e lì, figuriamoci, lo hanno ripescato. Questo è Roberto Speranza, un ripescato della politica come tutti gli altri del suo partito. Come Ministro della Salute poi, purtroppo, lo avevamo già sperimentato con nefasti risultati nel conte 2. Ma, ripeto, lasciamo perdere speranza e torniamo a Draghi. Partiamo dalla gaff, non so come chiamarla. So perfettamente che non si tratta di una gaff, ossia di un'espressione inopportuna, sfuggita in maniera così improvvida e che crea un certo imbarazzo. Non è una gaffa proprio perché lui lo ha anche voluto specificare bene, quindi appunto non è un'espressione, ripeto, che gli sia sfuggita. Naturalmente mi riferisco all'avere etichettato il presidente turco Erdogan come un dittatore. A mio modo di vedere poi la cosa è ancora più grave, dato che nessuno me lo toglie dalla mente che le domande dei giornalisti, se non sono concordate, certamente sono depositate in precedenza, quindi il Premier, venendone a conoscenza, può così insomma prepararsi la risposta. Ebbene, alla domanda appunto sull'episodio accaduto in Turchia che ha riguardato il Premier turco e la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen, episodio che ovviamente non mi addentro visto che lo conoscerete certamente già tutti, ha fatto scalpore che il nostro Premier abbia detto senza mezzi termini che il presidente Erdogan è un dittatore. Ebbene, io capisco l'inesperienza di Draghi, ma l'inesperienza in questo caso insomma rasenta quasi la stupidità. Non bisogna essere un esperto di politica internazionale per sapere che in Turchia il Premier è eletto dal popolo. Poi naturalmente noi al bar e qui anche su Facebook o su Youtube possiamo anche dare del dittatore ad Erdogan e pensare che le elezioni in quel paese proprio non si svolgano in maniera democratica. Ma insomma tutti noi sappiamo che le parole vanno misurate e soprattutto in base al ruolo che ognuno di noi ricopre. Faccio un esempio così tanto per capirci. Di tanto in tanto nei commenti a margine dei miei video, alcuni ascoltatori propongono così, che ne so, una legge marziale nei confronti dei politici, anzi si augurano addirittura una strage all'interno dei palazzi parlamentari. Ebbene, in un certo contesto, appunto, quindi all'interno di un commento, anche se sono espressioni forti, ma insomma si possono tollerare, ripeto da parte degli ascoltatori, diverso, completamente diverso, se invece proposte del genere fossi io a proporle appunto in video. Non sarebbe ovviamente il caso. Insomma, il ruolo è ovvio che impone anche un certo comportamento. Questo lo sanno anche i bambini, insomma. Un politico quindi, tanto più se riveste un ruolo di alto profilo istituzionale, non si deve mai permettere di ingiuriare il collega di un altro paese. Chi è Draghi per dare patenti di democrazia? Proprio lui che sta obbligando gli italiani al coprifuoco e alla reclusione ed emana un decreto che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi, un obbligo chiaramente incostituzionale. Quindi, indipendentemente da quel che è accaduto, ecco, Draghi doveva uscirsene dicendo che, così, probabilmente c'era stata una pecca nel cerimoniale, che in linguaggio diplomatico equivaleva a dire che Erdogan si era comportato da caffone, ma non doveva andare più in là di questo. Dicendo quello che ha detto, invece, Draghi, è chiaro, ha fatto nascere un caso diplomatico e, giustamente, a mio avviso, Erdogan ha convocato il nostro ambasciatore ad Ancara che, ritengo, dovrà umiliarsi porgendo le scuse per l'accaduto. Ma, cari ascoltatori, comunque io vorrei anche farvi notare una cosa. Ecco, non è che io abbia guardato tutte le reti televisive, anzi, neppure ho letto tutti i giornali, ma mi pare che nessuno abbia messo in evidenza un fatto. E allora, permettetemi di rivolgermi direttamente al Premier Draghi. A Mario, molto dico in romanesco, anche se io non sud di Roma, ma magari così, insomma, mi capisci di più. A Mario, la Presidente della Commissione Europea non si chiama Van der Leyen, perché non è olandese, ma si chiama Van der Leyen, perché è tedesca. Tu ricordi Otto von Bismarck? Tu ricordi nei libri di scuola? A Mario, ah, che figura che c'è fai fa? E, insomma, hai toppato più tu che Erdogan. Ecco, allora, naturalmente, perdonatemi, scusatemi per il romanesco che non è proprio, insomma, è maccheronico, ma spero così di essermi fatto capire dal Presidente Draghi, visto il guaio che ha combinato a livello diplomatico. e per coloro che invece non ci credono e quindi vogliono la prova, l'invito ad andare a rivedere il video di Draghi in cui chiama la Presidente della Commissione Europea Van der Leyen, sapete il Van olandese, e non von der Leyen come i tedeschi. Per me è una figura ancora peggiore di quella di Erdogan. Vabbè, comunque, ripeto, se questa con Erdogan era stata una gaffa spaventosa, ripeto che è nulla rispetto a quella dei furbetti del vaccino. Lì veramente Draghi ha superato ogni limite. Mentre lo sentivo io cercavo di capire ma questo sa quel che sta dicendo oppure proprio ha la mente completamente ottenebrata, insomma. Anche in questo caso penso che voi tutti sappiate quello che ha detto Draghi, ma voglio riproporvi le parole precise. Smettetela di vaccinare i giovani o comunque i ragazzi, sì, i ragazzi, io posso dire di 35 anni, psicologi di 35 anni, perché sono operatori sanitari anche loro. Queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo, ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista. Ma scusa Mario, ora adesso non faccio più il cabarettista e ti parlo in italiano. Ma guarda, che sei stato tu a firmare un decreto che, non farmi dire che tipo di decreti di altri tempi, di altri momenti storici, mi ha fatto tornare alla mente, è un decreto che obbliga gli operatori sanitari a vaccinarsi. Ma come la chiamiamo questa? Ancora una gaff? Qui superiamo ampiamente i limiti della gaff. Siamo all'arrentronamento, all'annebbiamento mentale. Ossia, tu firmi un decreto che obbliga qualcuno a far qualcosa e poi dici che di fatto quel decreto è stupido ed inviti quindi a non rispettarlo. Io direi, così cari ascoltatori, che dovremmo porci la domanda ma a chi abbiamo dato in mano l'Italia? Siamo certi che sia la persona giusta e soprattutto che sia nelle sue piene facoltà. Occorre porsele queste domande prima di trovarci in qualche situazione ancora più allarmante rispetto a quella purtroppo già drammatica nella quale ci troviamo.